Benvenuti in un nuovo video. Oggi siamo qui per spacchettare la Degusta Box. Prima di iniziare ragazzi non è nessuna sponsorizzazione perché ho acquistato io la Degusta Box e io, a parte che ci ha messo veramente un botto ragazzi ad arrivare, cioè considerate che ho ordinato il 23 febbraio e mi è arrivata il 17 marzo e considerate che io non potrei neanche più acquistare quella di marzo ma direttamente quella di aprile. Abbiamo un attimo capito come intenzione. Ecco, non c'era questa cosa, però vabbè, cioè se io pure ordinassimo quella di aprile, mi arriva comunque il 17 aprile, quindi automaticamente va bene. Comunque, volevo dirvi che io quando ho fatto l'acquisto, io non percepisco niente, anzi potete farlo anche voi, penso che la prossima me la fa pagare invece di 15-10 boh, comunque se accedete al link che vi lascio giù nell'info box potete avere la vostra box, quindi la vostra prima box a 10 euro. Potete poi condividere il link che vi danno stesso a voi con altri amici e voi fate la stessa cosa, penso che accumulate punti ragazzi, capite questa cosa? Ma la mia cosa sta? Eh, vabbè, comunque infatti io non ho neanche capito se mi sono abbonata o non mi sono abbonata, quindi boh, vabbè. E questo è il mio codice, no, capite niente. Ok, va bene ragazzi, infatti io non c'ho capito, io lo da cliente, comunque non la sollevo perchè è veramente super pesante, l'ho pagata quindi 9,99 euro compresa di spedizione perchè altrimenti a prezzo di vero sarebbe stata tipo 16 euro. e quindi niente, apriamo vediamo e questa è quella di marzo speriamo sia bello come il calendario speriamo, mamma mia bellissimo che bella la faccio vedere la faccio vedere ok allora ragazzi le gocciole al cocco che noi abbiamo già provato ma mi daremo la nostra recensione o il video dopo ma in questa settimana ci sarà un super video ok poi però tutte scicchettate proprio guarda qua manco a farla apposta sì però spero che non siano no ma se no non lo sai comunque neanche se lo sapevano neanche a farla apposta della mulino bianco perché Giulia troppi spoiler a qualcuno di voi già l'ho dato qualche spoiler fior d'acqua fior d'acqua con farina integrale eccola qui con farina integrale bello questo secondo me con un bello con un musso sopra ecco come sta qua ok io che poi dico mamma a me non mi viene no adoro da molto bene latte zimil quindi già diciamo senza la doccia no ma ci dovrebbe passare un foglio con i prezzi senza scritto in là ma te l'ho tolto perché altrimenti spoileriamo tutto comunque latte zimil alta digeribilità ok vai pesca ecco perché c'era il coso della kellogg the kellogg's granola frutta secca granola ci sta una granola mixo è la granola della kellogg's senza zuccheri aggiunti eccola qua ok non è mulino bianco mi sarei aspettato una confezione comunque ma c'è 10 euro facciamo il conto pavesini eccoli qua ma quanto scadono questi dove hai letto 19 non l'avevo capito comunque ragazzi questi qua sono della pavesi il cioccolato poi vai tu è la papà è la visciosa oddio ma c'è questo bene il tesoro attenta 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 aspetta 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 ma mi piace un sacco la bottiglia la birra 8.6 questo è rossa bello da provare da provare del verde sono degli spaghetti ma sono annito ma sono che non si sono rotti eccoli qua sono spaghetti ma ci sono 500 grammi un kilo no 250 grammi è il sale il sale grosso integrale però mi piacciono queste box integrali no il mante di integrale no sale grigio della gemma di mare gli integrali sale grigio dell'atlantico compagnia italiana sali bello mai vista una cosa del genere ti dice racconto le saline dell'atlantico secondo l'antico metodo celtico conserva il suo caratteristico colore grazie al fondale ricco di argilla c'è tipo sul grigino bello infatti devo capire se mi sono abbonato o no perché altrimenti la ordino con la diapilla perché secondo me mi sa passare l'abbonamento perché risparmi facendo l'abbonamento secondo me non lo so non lo so dobbiamo capire un po' questa cosa questa è una super novità pasquera brioche pasquera comunque dei pancake con gocce di cioccolato no mi voglio arnisauri o bianchi eh sì sì e con le gocce di cioccolato guarda come sono bene squishy adoro no sono da un po' contenta di questa di questa box veramente c'è la fine ragazzi c'è tu sei bello in mercato non ce la fai con 10 euro perché non sono cose scontate no nicoli senza glutine barrette multigrain sono le barrette multigrain con mirtilli rossi adoro mamma li amirà queste sono buone quante ce ne sono? non c'è dato sapere penso sei che schifo che schifo che schifo qualcosa ma nanas aceto di mele con zenzero e limone ma si beve no si si beve ma l'aceto di mele no aspetta allora bianca biologica con aceto di mele succo di limone e zenzero ma questa non pensa si beve non so scritto ti vuoi bere l'aceto di mele mi pensa di si risorto si usa è per se ready to drink pronto per bere tu teni sto coraggio davvero provare la provere per un video recensione maledetta yes siamo maledetta ma tu già l'avete comprata questa bella di euro e quindi c'è considera che solo questa sono due euro e le gocce ma chi è? ci sta su gli oreo ricoperti di cioccolato bianco scusatevi l'interruzione allora giusto per far capire la situazione gli oreo stanno due euro e ventinove costano la birra un euro e trentanove latte zimile un euro e settantanove gemma di mare sarebbe il sale due euro e novantanove gocciole due sessantanove però penso costano di meno perché dal supermercato vabbè la pasta i spaghetti un euro e quaranta i pavesini a pacchettino ottantanove centesimi che questo è il prodotto del mese Kellogg 3,65 l'aceto di mele la 3,50 euro mulino bianco ma questo secondo me è qualcosa di c'è l'aceto di mele 3,50 euro no è qualche una domanda particolare mulino bianco sarebbero i fiori d'acqua un euro e quarantanove le barrette due e quarantanove e i pancakes due e ventinove ok di questa box ma scomma no mi piacciono queste contest incrocia il benessere ok ma che dire ma io adoro metti così come immagine della copertina allora raga io comunque devo dire che 10 euro ci sta ma ne vale alla fine comunque raga veramente fatemi sapere se vi può interessare questo appuntamento mensile mi dispiace che comunque non mi inviano prima la box così da fare il video in modo da dire magari per chi è interessato a questa box non lo so come funziona dobbiamo un attimo capire diciamo se qualcuno sa come funziona si infatti raga fateci sapere e niente noi speriamo che questo video vi sia piaciuto veramente raga sono rimasta scelta ma pure con il calendario per chi se lo fosse perso lo trovate tutto bellissimo ok raga noi speriamo che questo video vi sia piaciuto mi raccomando fateci sapere se volete il secondo episodio io ci vedete anche io e noi ci vediamo nel prossimo video ciao